ciao ragazzi, grazie di essere qui qui, qui, qui qui con me oggi, oggi primo vero video dell'anno in cui veramente andiamo un po' ad analizzare i buoni propositi del 2021, gli obiettivi del 2021 e voglio andare a spiegarvi un po' cosa sto facendo io per affrontare meglio questo inizio dell'anno così da molti visti è importante perché comunque il 2021 c'è molta speranza prima di cominciare lascia un like se questo video ti piacerà, ricordatelo perché è molto importante per il canale e la seconda cosa è che sto usando dei microfoni diversi questi sono i microfonini, quelli a lavalier di alta qualità, non sono dei lavalier normali che io vi ho fatto vedere nel video in cui provo tutti i microfoni e li ho riutilizzati nello speciale 900mila che sarà un vlog della mia giornata che diciamo è un vlog di una giornata molto semplice e ho utilizzato questi microfonini qui e mi ci sono trovata talmente tanto 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 bene che ho deciso di provare a utilizzarli in altri video il suono secondo me è molto buono adesso non mi fanno completamente impazzire attaccati al maglione perché mi sento un po' la stoffa cioè mi piace molto l'effetto però ammetto che non può piacere a tutti invece così secondo me è molto bello e soprattutto tipo per i video di cucina saranno troppo comodi quindi sono contentissima di averli riscoperti diciamo così vedremo adesso magari non lo so forse li usarò più spesso perché a me l'audio piace veramente tantissimo è super pulito e mi fa impazzire comunque cominciamo subito con lo scopo del video come vi ho detto nel primo video dell'anno ho appunto cercato di prendere questo 2020 in tutto il suo lato positivo non che ci siano state solo cose positive però essendo un canale smr e volendo io comunque non darvi negatività ho scelto di dirvi solo un po' i lati positivi quindi introduco questo video dicendo che però metà del 2019-2020 sono stati caratterezzati per quanto riguarda la mia vita da un lasciarsi trascinare dagli eventi fondamentalmente dal periodo della mia laurea fino a quando ho insegnato quindi novembre è stato un po' un tutto sì, lasciarsi passare le giornate sopra è una cosa molto privata da condividere quindi spero lo apprezziate e questo ve lo dico perché da qui parte un po' tutto ciò che vi dirò nel video e magari un giorno vi parlerò anche della mia esperienza universitaria non riguardo al mio corso proprio prima riguardo a ciò che ho vissuto negli ultimi due anni due anni e mezzo di frequentazione dell'università che sono stati diciamo forse la mia esperienza può aiutare qualcuno vedremo ditemi giù nei commenti se vi interesserebbe un video del genere diciamo che sarebbe su come ho affrontato un blocco molto forte universitario in questo 2021 volevo prendere un attimo la mia vita in mano e cercare di gestirla io e non lasciarmi appunto trasportare dagli eventi il 2020 è stato l'emblema del farsi trasportare dagli eventi e purtroppo certe cose non si possono controllare nella vita ma altre sì io a un certo punto non controllavo nulla non è una cosa negativissima è una cosa proprio più che altro apatica per questo 2021 ho deciso di fare alcune azioni per permettermi di avere una direzione un obiettivo una visione ben precisa di ciò che voglio fare quest'anno e comunque di ciò che di che direzione voglio prendere e ho fatto tre passaggi il primo è stato un c'è stato tutto in quest'anno un'ammissione di ciò che non andava e un lavoro su me stessa assolutamente non finito appena cominciato e la prima cosa che ho fatto nel 2021 e fine 2020 è stato un decluttering decluttering di un po' di vestiti un po' nella cucina in generale io vi consiglio di fare il decluttering con qualunque cosa riteniate avere troppo troppo di quella cosa cose che non usate possono essere i cingilli vari in casa possono essere appunto troppo cibo pepintole così strumentini vari possono essere vestiti trucchi skin care che non userete mai che è scaduta che andate insomma questi produttini qui non so qualsiasi cosa vi venga in mente di cui avete troppa roba e che non userete mai buttate lasciate andare proprio alleggeritevi alleggeritevi ecco seconda cosa che ho fatto è una lista desideri cosa è una lista desideri fondamentalmente è una lista di desideri e obiettivi che vorrei raggiungere se non nel 2021 in generale alcuni sono specifici per il 2021 altri sono un po' più a lungo termine diciamo così soprattutto uno e perché vi dico lista desideri e obiettivi e non vi dico buoni propositi per il 2020 2021 ci ho pensato molto a questa cosa dei buoni propositi e i propositi sono propositi non non valgono nulla appena riprende la vita normale il 7 gennaio tutte se li scordano io voglio un qualcosa un obiettivo che influenzi le mie azioni di ogni giorno le mie decisioni non voglio un cioè sia ovviamente c'è il essere più in salute ma non c'è l'andare in palestra 4 volte a settimana perché è un proposito l'essere più in salute vuol dire cercare di fare più attività fisica positibile cercare di mangiare meglio però non vuol dire per forza andare lì 3 volte a settimana perdere tot chili o cosa è proprio un obiettivo diverso una visione diversa e la terza cosa che ho fatto è la vision board adesso guardiamo un attimo alcuni non tutti della mia lista dei desideri e ve li voglio spiegare e voglio magari darvi spunto per qualcosa per voi ci sono sia cose materiali che non voglio stocannare anche un po' l'argomento soldi guadagno perché io non nel senso mi sono messa anche obiettivi finanziari in questo 2021 e va bene così è normale e il mio voglio è qui vabbè il primo obiettivo insomma che dipende da me diciamo l'azione ma non il tutto è passare il concorso insegnanti chi lo sa quando ci sarà il concorso ma quando ci sarà non dico studiare un'ora al giorno ma dico proprio passare il concorso quindi devo studiare un quarto d'ora al giorno studio un quarto d'ora al giorno è sufficiente sicuramente no devo studiare otto ore studio otto ore punto poi ci sono alcuni obiettivi di viaggi che non condividerò con voi perché però io spero insomma in questo 2021 almeno d'estate di poterli prendere un po' a viaggiare vedremo soprattutto per il viaggio di nozze devo dire un altro obiettivo è quello di riuscire a controllare il mio impulso di shopping praticamente compulsivo consolatorio dato dalla noia e dal voler riempire un vuoto dato da qualcosa altro non un vuoto nell'armadio quindi c'è un comprare meno vestiti e trucchi ora questo non vuol dire non comprare trucchi che mi servano o per dirvi non fare collaborazioni make up intendo che per come li uso io non mi servono così tanti trucchi come quanti ne vorrei comprare io entrerei da Sephora e comprirei 5 palette ma non li userei quindi è inteso come questo trucchi in appuntanza che so che non mi servono che magari so che non userò eccetera eccetera quindi è inteso come questo cercare veramente di non sopperire a una mancanza emotiva con dello shopping dello spendere soldi e meno vestiti è uguale insomma un altro obiettivo è assolutamente assolutamente no però è raggiungere un milione su youtube è proprio un obiettivo qualcosa che voglio raggiungere e sapete che non è solo una questione di cioè non mi interessa dei numeri in sé però è proprio un simbolo un traguardo è come dire una laurea cioè una laurea non vuol dire che tu anche se in zona laurea se tu hai studiato sai le cose però una laurea è un traguardo un simbolo un obiettivo e questo per me è un milione so se sono riuscita a spiegarmi un altro ad esempio è fare un viaggio da sola che sia anche un weekend è un obiettivo del 2020 che avrei potuto comunque fare quest'estate diciamo c'erano due giorni quest'estate si potevano fare da qualche parte non lontano però ma non l'ho fatto non ho avuto il coraggio e anche qui si va sempre qui cioè voglio veramente uscire un attimo dalla mia comfort zone in cui sono entrata pienamente nel 2020 c'è proprio la comfort zone è venuta qui ha detto Chiara vieni da me che ti consolo io come un po' tutti per il 2020 quindi è un qualcosa che mi piacerebbe tantissimo fare che la la me che voglio un attimo sbloccare tira invece per no rimandalo 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 anche un guadagnare tot al mese non mi dirò mai quanto però proprio un fare di tutto per guadagnare tot ora io sono libro professionista e diciamo che è una cosa normale secondo me fare questo ragionamento da libro professionisti però per chi è giovane prima di avere un lavoro fisso diciamo così comunque ci sono dei lavoretti magari estivi e si possono avere degli scopi finanziari anche con i lavoretti eccetera io ad esempio davo anche lezioni facevo la steward allo stadio insomma cose del genere e ci sono anche certi lavori in cui più fai più guadagni esempio insegnante puoi fare dei lavori extra proprio anche all'interno della scuola insomma ce ne sono diversi questo ragionamento non vale per tutti però dove non arriva il lavoro arriva il risparmio anche quindi insomma è un ragionamento generale che ripeto questi sono i miei obiettivi ognuno i propri viaggiare costa a me piace viaggiare proprio non voglio voglio raggiungere il massimo del mio potenziale in tutto pian piano però non voglio lasciarmi sfuggire un'occasione solo perché ho rimandato la risposta a quella mail solo perché sarebbe un po' più complicata la cosa solo perché ho paura di lanciarmi in una cosa mi è capitato molto nel 2020 e nel 2019 e non voglio che capiti nel 2020 voglio veramente andare oltre certi miei limiti è proprio una questione più che altro di questo sforzarmi appunto di uscire sempre di più dalla mia comfort zone e dal sì dalla mia comfort zone e tutti questi obiettivi fondamentalmente sono intorno a questo concetto come si chiamava vision board ecco adesso non mi viene in mente come si chiama comunque un'altra cosa che ho fatto collegata a questi desideri obiettivi è la vision board che cos'è non vi sto a spiegare esattamente che cos'è o come si fa o tutte le procedure esatte per farla al meglio perché è il primo anno che la faccio e se siete interessati all'argomento andate a cercare vari video su youtube comunque la vision board è fondamentalmente un file board un cartellone o qualcosa con anche di fisica appunto con diverse immagini che sono fondamentalmente come visioni te come visioni la vita che vorresti ad esempio ci può essere l'immagine della casa dei tuoi sogni ci può essere l'immagine della macchina che vuoi ci può essere l'immagine di una persona che è come vorresti essere te al lavoro quindi magari ascoltata ad esempio nella mia c'è l'immagine una persona che parla a un pubblico perché un mio obiettivo e desiderio grandissimo di questo 2021 sarebbe cominciare a parlare di questo fenomeno al pubblico dei credit permettendo siamo sempre lì però sarebbe una cosa molto molto bella per me oppure c'è una foto di un insegnante c'è una foto dell'insegnante migliore dell'anno del 2020 proprio ci sono degli obiettivi che mi stimolano a raggiungere il più possibile quella vision board appunto c'è una una casa c'è ci sono varie immagini di viaggi eccetera 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 ci sono proprio immagini di come vorrei essere cosa vorrei fare come vedendomi dall'esterno vorrei sembrare e diciamo che unire obiettivi a obiettivi visivi può aiutare molto a incanalare i propri pensieri a mantenersi concentrati quindi anche a dare un po' un significato a tutte le giornate lo sto facendo perché per questo motivo perché voglio raggiungere questa cosa ed è secondo me fondamentale e vale un po' per tutte le età anche 14 15 16 16 anche 80 anni sognate in grande pensate in grande e vedremo io quest'anno voglio pensare in grande e speriamo non speriamo e ci proverò con tutte le mie forze so che è un video molto chiacchiericcio come come l'altro mi dispiace di aver fatto due video in cui semplicemente parlo e non ci sono altri trigger adesso arriveranno video diversificati diciamo così non vi preoccupate però però sentivo che dovevo condividere questo mio percorso e questa mia gioia con voi dell'iniziare questo nuovo anno con questi passi se anche solo qualcuno di voi lo farà magari la sua vita migliorerà e sono contenta di avere minimamente aiutato questa cosa quindi questo è ciò che ho fatto io personalmente se non vi interessa se non mi è interessato l'argomento spero che comunque il mio whispering vi abbia rilassato e avvicino un pochino i microfoni per la buonanotte io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio si aggiunta l'ora a passare le luci e augurarvi una buona, 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 buona notte buona notte soñador, 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 soñador good night sweet dreams buenas noches dulce sueños buon nuit buon nuit vedebue rêve vedebue rêve dovrebbe essere giusto good night good night buonanotte miei pasticcini meravigliosi io vi auguro uno splendido 2021 pieno di soddisfazioni e pieno di amore un bacione che rispera buonanotte buonanotte buonanotte